come promesso l'approfondimento settimanale parliamo di questa supercoppa non solo e non solo celebrando chi il campionato lo ha vinto io ridò la buona sera a max canalire ciao max ben ritrovato prima te l'avevamo perso eccoci insieme a noi ti dico che grazie anche insomma al tuo lavoro e anche alla gentilezza carineria per essersi insomma essere ritornato qui perché lo è già stato ospite nostro diverse settimane fa il direttore sportivo del como calcio carl'alberto ludi buonasera ciao buonasera a tutti grazie complimenti innanzitutto grazie grazie di cuore allora io la prima domanda la faccio io poi poi lascio lo spazio anche anche a max insomma è stata una bellissima cavalcata un campionato sicuramente difficile lo dicevamo anche nel precedente collegamento questa serie c è difficile dura è lunga anche l'abbiamo visto soprattutto nel nel girone b insomma avete allestito una squadra veramente di di livello ora è insomma la lombardia è densa diciamo di di squadre di di livello voi però avete la vostra identità e la vostra storia sì pensiamo di di lavorare per come posso dire ricostruire quella che è stata la storia del como che comunque è una storia affascinante una storia fatta anche di serie a di tanta serie b e quindi ci sentiamo una cosa che si dice spesso quando si vince un campionato ma ci sentiamo a casa tornando nella categoria superiore è stata una stagione come dicevi tu non banale fatta di tantissime difficoltà e altre tante emozioni secondo me è vinta con merito lo dico con grandissimo orgoglio perché la capacità di di resistere la resilienza di questa squadra è stata clamorosa per tutto per tutti i dieci mesi che ci hanno contraddistinto quindi abbiamo fatto 75 punti 7 punti sulla seconda quindi alla fine anche la classifica ci dice che è stata vittoria meritata ora stacchiamo un attimo la spina salvo le due parti di supercoppa e poi prepariamo prepariamoci a fare una grande ma difficile serie b max ma intanto vanno fatti i complimenti perché il como non ha avuto soltanto l'alessandria in questo girone e di grande qualità ma io ricordo un alessandria parecchio indietro in classifica nella primissima parte del campionato quella che noi abbiamo cominciato a trattare in diretta con le partite della ternana dal primo novembre in poi con ternana cadanzaro 5 a 1 ricordo bene quando abbiamo preso in carico su dettame e sul fiorimento e incoraggiamento del nostro editore stefano bandecchi le vicende di questi gironi ci siamo documentati e il como ha saputo costruire intanto una squadra sia composta da calciatori umili di carattere tecnicamente anche pregiati ma allo stesso tempo capaci di di vestire diverse situazioni dal punto di vista tattico una squadra la cui dottività la cui serietà la cui grinta ha impressionato da subito a como calcio lo sanno fare l'hanno sempre saputo fare poi quello spaccato geografico quando si parla di calcio e di palla cadastro sono due cose seri sono due cose importanti e quindi io che conosco bene la parte diciamo da como a tutta la brillanza so bene di quanto ci venga la gente a far bella figura alessandra la ricorderete molto indietro ma non c'è stata solo l'alessandra che è stato un renate fino a un certo punto che aveva impresso un ritmo incredibile salvo poi sciupare nelle gare interne dei punti clamorosi e alcune si sono perse addirittura per strada penso a prosesto che fino a un certo punto ha dato fastidio alle parti alte della classifica se guardiamo la gradutoria il buona albertini è sceso parecchio indietro domenica sono stati segnati 27 gol rispetto ai 32 del girone b e 30 del girone c che dicono che viva dio del girone a si comincia a ragionare anche sulla trazione di pensi sulla transizione difensiva perché parliamoci chiaro io nel girone b nel girone c ho visto dei portieri imbarazzanti e anche delle difese che si perdono l'uomo capisco che poi il compito più difficile del como e della ternana non sia stato soltanto di natura tecnica e tattica o di rapporto con il gruppo ma sia stato anche l'incoraggiamento fatto a un collettivo che andava andava preso e guidato per mano lo ha saputo fare la società lo ha saputo fare lo staff tecnico l'ambiente ha capito quindi l'anno prossimo per pomo terni e perugia darà l'ennesimo esame questa supercoppa non può farci che divertire poi il fatto che finisce prima per un che como significa che la ternana potrebbe giochere anzi giocherà il derby in casa tocca vedere soltanto quando e come ternana mi riporta al calcio di qualche anno fa ma oggi la verità qual è che come sa scegliere anche i giocatori di fascia giovanile quindi io quando dicevamo che lui e i suoi compagni di viaggio hanno svolto un lavoro prezioso non era una frase dettata così è perché a como il calcio lo vivono in maniera oculata lo hanno saputo fare tanto con i giocatori esperti quanto quelli con la parte mediana d'età quanto con la carta grafica più bassa quindi l'anno prossimo si sono portati avanti con lavoro esattamente come la ternana il perugia da questo punto di vista delle tre mi dispiace dirlo è un po quella più enigmatica diciamo così io però la domanda gliela faccio sulla supercoppa visto che insomma c'è arriva il como forte di questa di questa vittoria col vento in poppa sarà anche saranno anche tre altre tre belle giornate no tre domeniche diverse belle entusiasmanti è un obiettivo direttore sportivo questa questa supercoppa no l'obiettivo è onorare la maglia e la competizione non posso dire che vincere la supercoppa diventa un obiettivo ma ci ci proveremo o comunque proveremo a dare il massimo così come abbiamo sempre fatto da inizio stagione l'obiettivo principale quello che abbiamo costruito durante la stagione attraverso il lavoro noi non siamo partiti per ammazzare il campionato ma ci siamo ritrovati competitivi per le precisissime posizioni poi attraverso l'ambizione e la mentalità come dicevate prima siamo riusciti a vincere è stato raggiunto appunto il massimo obiettivo ora ci godiamo queste tre settimane di grandi confronti di grandi partite perché è come perugia perugia ternana e come ternana non sono partite banali ma diciamo che la festa e la soddisfazione massima per il grande obiettivo che abbiamo raggiunto che è stata vittoria campionato qual è stata una domanda più classica scontata che però in questo caso è duopo come si suol dire il segreto del successo ed è allestito ma detto max una squadra insomma ben assortita con dei giovani molto interessanti lavorando un po quasi da capo noi rimescolando negli ultimi anni un po ecco lo vediamo insomma si sta facendo anche un selfie giustamente meritato e bello sta godendo la festa chiamavamo sì chiamavo ero in diretta con dennis wise che è il nostro amministratore delegato e quindi volevo far partecipare anche a lui anche lui alla festa che veramente ci stava ci stava coinvolgendo ecco il segreto qual è cioè nel senso aver trovato un gruppo la mentalità un allenatore che ha impresso notevolmente un certo tipo di gioco ma ci sono tanti strumenti più che un segreto unico allora noi abbiamo cominciato il lavoro due anni fa non in questa sezione sportiva in quella precedente se noi guardiamo la squadra che abbattuto l'alessandria nella finale perché quella era a otto undicesimi di giocatori firmati appunto l'anno prima e attraverso un lavoro di due stagioni sul mercato abbiamo contestualmente cercato di creare una mentalità una mentalità che prevedesse la non cultura dell'alibi ma la capacità sempre di crescere attraverso le difficoltà e caso caso strano in un contesto generale come quello post covid direi che questo che è un po voglio dire un ingrediente che serve a tutti i contesti organizzativi non solo le squadre di calcio ma la lunga ha fatto la differenza io cito solo ma vi ripeto con grandissimo orgoglio il fatto che noi abbiamo avuto 29 positivi a un certo punto di cui 22 giocatori di cui 22 giocatori in squadra abbiamo fatto otto partite in 22 giorni che è un tour de force che neanche le squadre di champions anche in serie a abbiamo avuto un cambio da esatto abbiamo avuto un cambio d'allenatore comunque qualcosa di destabilizzante abbiamo avuto un malore al nuovo allenatore abbiamo avuto un crociato un tenere da chilo uno strappo del sole uno strappo del retto femorale per un totale di 16 mesi di infortunio sommati tutti tutti e quattro di media quattro mesi di fortuna niente niente e allora per chi conosce il calcio vi dico che queste che sono situazioni abbastanza gestibili nella quotidiana nella vita normale sono destabilizzanti perché è un progetto competitivo bene i ragazzi da queste disavventure perché chiamavole così queste sfortune sono sempre usciti più forti ha sempre trovato in loro la forza di reagire e quello ha fatto di gran lunga differenza in più l'allenatore che abbiamo messo novembre è riuscito ad entrare in empatia da subito col gruppo squadra e questo fatto sì che ancora questi valori soprattutto caratteriali valorizzassero ancora di più la forza tecnica della squadra che comunque non negora una squadra costruita per stare nella top four quello era l'obiettivo iniziale max tra l'altro loro su mano wise che è uno che il calcio l'ha fatto a livelli importantissimi quindi è uno col quale immagino sia un interlocutore piacevole da questo punto di vista responsabilizzante perché poi parliamoci chiaro non tutti si possono permettere come la per la ternana del nostro editore a lucarelli che è stato un gran giocatore anche coerente nel rifiutare i danari più importanti per rimanere per esempio a livorno e al suo livorno e wise è uno che insomma quando ci parli di calcio è come se fai da un professore di storia dell'arte insomma da larghi anni turno a dire senti che ne pensi di questa cosa quindi da questo punto di vista immagino che lui abbia abbia avuto un terreno fertile abbia avuto anche la fierezza di scambiare delle idee perché poi quando adesso la serie b sarà un impegno più importante credo che anche il rapporto col territorio so che come addirittura ben distante dalla lombardia mi giungono voci ma non sono voci maliziosi ma voci onorevoli nei confronti della società ha intessuto una rete di insomma di osservatori di quella credibilità ed è bello così perché così lo fece tanti anni fa un certo lecce di pantaleo corvino che i giocatori li andava a prendere fino su in trentino che soltanto se hai gente credibile gente di campo gente che ancora non ti fa fare il battimuro come era quello che ha scoperto conti di bartolomei orlando di nitto pace all'anima sua e disse al barone lido barone mister anzi lo chiamava questi non li far transitare troppo in primavera sono già pronti per la prima squadra cui lui era una costruzione di bartolomei campione d'italia il vice campione europa e il campione del mondo pronoconti io auguro al como di avere la stessa sensibilità da questo punto di vista e osservatori come pantaleo corvino come il fu mino favini o come il giampiero guarracino della situazione che al tor di quinta ha portato giocatori come sforzini come napoleoni che sono andati a fare poi per eliminare i champions league cioè como merita perché ha dimostrato nel tempo di tenere i piedi per terra eppure si potrebbe permettere di ostentare proprio quel blasone non solo societario ma anche del personaggio che abbiamo nominato prima non è un dettaglio questo quindi io tanto di cappello di fronte al lavoro svolto da como se ti ringrazio spero solo un'altra lancia a favore di dennis perché avere dennisi come ministro delegato comunque in società è qualcosa di formativo oltre che un valore aggiunto fondamentale lui purtroppo a causa covid è stato lontano fisicamente ma presente nella quotidianità sia operativa che strategica mi confronto con lui tutti i giorni lui è una capacità clamorosa molto molto inglese di semplificare più possibile situazioni e renderle efficaci questo per la serie c è una cosa super funzionale perché la serie c secondo me più non si banalizza ma si semplifica e più si diventa appunto performanti in questa categoria quindi lui l'ha capito subito ci ha sempre ricondotto a quel tipo di approccio mentalità alla fine i frutti si sono visti io una domanda su questo la voglio fare già ce l'avevo in sebo dall'altra volta è una proprietà ovviamente straniera il como come ce ne sono per l'italia e anche per l'europa si max voglio dire qualcosa sono le 20 sono quasi le 22 come io devo fare il disciplinato perché rappresento la nostra televisione ah perché devi andare via ok allora ti saluto però la stessa che voglio fare in maniera cortese è venire a trovare presto in lombardia direttore sportivo e di venire a como perché tu sai che io lì vicino ho un amico che si chiama Pierluigi Marzorati a Cantù quindi vengo volentieri per tutte e due le parti del cielo di quello che è il mio cielo di radiocornista e di telecronista vi devo purtroppo salutare però vi mando un abbraccio a tutti e due e ai nostri ascoltatori ciao max sarà un piacere alla prossima settimana qui in studio grazie a max canaliera allora la domanda è ovviamente sulla sulla proprietà una proprietà straniera una proprietà che non è presente tutti i giorni insomma di là del del covid com'è lavorando dal di dentro perché insomma la Roma ormai da da tanti anni è una proprietà americana dieci anni di pallotta adesso i fridkin insomma pallotta non non ha goduto no dei diciamo dei benefici dei dei risultati e quindi la piazza si è rivoltata contro a manchester come anche a parigi insomma la proprietà è straniera e anche a manchester sponda united eh i tifosi ce l'hanno un po un po con con la proprietà non è che è detto che sia così proprietà straniera allora i tifosi vanno contro o non si ehm non si va a bersaglio cioè non si raggiunge l'obiettivo il como è è un esempio appunto di questi che invece l'obiettivo si può raggiungere cioè nella posizione strategica direttore l'ha detto cambia qualcosa o no oppure nulla cioè oggi la tecnologia con i cellulari e le varie piattaforme eh di streaming si possono fare comunque riunioni si possono condividere o c'è bisogno no che alla fine eh i giocatori lo staff debba necessariamente vedere il cosiddetto mi perdoni padrone chiaro no è una domanda molto molto interessante e centrale rispetto alla direzione in cui sta dando il calcio ehm per esperienza dico che non cambia molto a patto che ci sia delle gerarchie predefinite un organigramma ben ben preciso in modo tale che i giocatori possano rappresentare così come i tifosi dei punti di riferimento in società eh mi spiego meglio noi abbiamo non abbiamo avuto l'amministratore delegato né il presidente di fatto nel proprietario fisicamente a como negli ultimi negli ultimi otto mesi ma sapevamo come i giocatori sapevano come venivano prese decisioni e su chi potevano fare riferimento in loco e quello che penso che sia fondamentale altro aspetto e qua purtroppo mi mi spiace ma doveva essere critico nei confronti del sistema italiano come negli ultimi vent'anni è fallito tre volte con tutte proprietà eh italiane eh noi adesso stiamo commentando anzi io sto lavorando per una società che in in ottica in epoca covid e vi parlo del primo lockdown di marzo eh del marzo non questo ma eh 2020 quando tutti dibattevano eh su quanto poter risparmiare dagli stipendi dei giocatori la nostra proprietà pur da Londra eh in un colloquio durato otto secondi ha detto non scherziamo la pandemia non è colpa dei giocatori abbiamo preso degli impegni abbiamo stanziato un budget quindi non facciamo beneficenza ma abbiamo messo a budget determinati un determinato impegno economico è nostro dovere eh adempiere a tutti gli impegni che abbiamo presi so che il presidente Bandecchi logicamente ha fatto lo stesso ma purtroppo è una mentalità che è ancora lontana da quello che è la cultura italiana che invece è molto naturale per tutte quelle che sono proprietà straniere che hanno un approccio molto più aziendale ma ma per questo molto più sostenibile rispetto al calcio. Beh l'abbiamo detto anche noi poco fa insomma i due punti al Catania sono stati lasciati no? Da quattro erano diventati poi due per la mancanza di pagamenti eccetera quindi non è solita anche in altre in altre categorie purtroppo dobbiamo dirlo quindi la mentalità e la strategia eh si definiscono però serve o no avere un punto di riferimento cioè in questo caso è lei il direttore sportivo quello che vede i giocatori vede lo staff è a contatto con eh cioè ci sono delle figure necessariamente scelte dalla proprietà all'interno ma queste figure adesso perché ce l'ho davanti insomma eh cioè secondo la loro visione inconsciamente pure no eh ti può fare qualcosa di meno o stiamo parlando comunque di professionisti? No stiamo parlando ormai nel calcio che va nella direzione della specializzazione del professionismo ci sta parlando comunque di di professionisti che devono saper incarnare il ruolo che ricoprono con grande senso di responsabilità io non vi ho corretto prima perché mi sembrava assurdo farlo a seguito di una transizione in termini di organigramma sono diventato direttore generale non chiediamo scusa chiediamo no 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 non per dire questo ma per dire che l'evoluzione mi ha portato a ricoprire il doppio ruolo ma per i giocatori era molto chiaro così per l'ufficio commerciale era molto chiaro qual era la direzione salvo poi essere introdotto inquadrato nel nuovo ruolo da logicamente la proprietà e da danni stesso che attraverso una zoom call piuttosto che altri strumenti che oggi disponiamo hanno potuto mettere la cornice rispetto a questo cambiamento organizzativo si può realmente fare tutto a fatto che ci siano nelle figure nelle posizioni giuste professionisti in grado di prendersi le responsabilità del ruolo allora l'ultima che le faccio ovviamente sul campo è una è una sulla sulla società sul campo ovviamente già un po l'ha detto non è la maglia di questa questa supercoppa e fare bene per poi progettare no perché quella è la storia già lo state facendo per me da qualche giorno il prossimo campionato che vorrete sicuramente in cui vorrete ben ben figurare quindi diciamo sul campo qual è il prossimo obiettivo e invece a livello societario oggi ancora i campionati non dico la serie a ma la serie b e la lega pro sono appetibili da aziende straniere perché qua si parla tanto comunque di settore italiano di aziende in crisi italiane anche se in made in italy comunque riconosciuto in tutto il mondo però anche altre aziende dall'estero visto una proprietà straniera possono entrare nel pacchetto nel pacchetto magari degli sponsor a seconda di vari livelli ecco c'è questo voi andate a cercare anche fuori allora partire dal discorso tecnico logicamente cerchiamo di divertirsi ad onorare la maglia in queste due partite e poi come diceva lei anzi come dicevi tu ci dovevamo dire tu mi piace cominciamo a progettare quello che vuole essere il primo passo nella serie b col consolidamento della categoria noi abbiamo sempre fatto in questi due anni passi sostenibili passi oculati in linea con quelle che potrebbero essere una crescita continua della società così sarà anche in serie b non ci vorremmo fare trovare impreparati ma allo stesso tempo vorremmo fare un passo in linea con la crescita con la crescita graduale del club quindi il primo passo sarà sicuramente quello di consolidarci in quella che sentiamo essere la nostra casa per quanto riguarda il resto noi essendo avendo una proprietà straniera tendiamo anche a ricercare partner commerciali anche fuori dal dal territorio nazionale nonostante diamo più valore vi dico di dico la verità a quello che riusciamo a portare a casa da como e zone limiti o perché comunque su me la territorialità è molto importante in termini generali rispetto ai club di serie b parliamo probabilmente della serie b secondo me ci sono situazioni molto interessanti e appetibili per le società straniere al netto che poi l'orgoglio e l'identità italiana deve essere sempre difesa cioè noi siamo comunque uno dei campionati più veri del mondo io continuo a dirlo uno dei sistemi calci più del sistema calcio più appetibile più virtuoso del mondo al netto di una gestione poco sostenibile in alcuni casi però la identità italiana anche a fonte di proprietà straniere deve essere totalmente difesa per quanto riguarda la serie c invece io voglio spezzare una laccia e parlare bene di alcune realtà che sono caratterizzate dalla serie c che a volte vengono dimenticate a fronte di grandi investimenti di piazze come como padova o terni stessa che possono chiamarsi renate pontedera gianni arminio stessa che attraverso gestioni sostenibili danno valore a tutto il tessuto sociale del loro territorio lavorano sui giovani e tutti gli anni chiudono con bilanci come pareggio sul tirola è un esempio di eccellenza in assoluto che nella programmazione ha fatto ha ritrovato veramente successi importanti e questi sono esempi super virtuosi di come si fa calcio in italia anche in serie c grande in bocca al lupo per la supercoppa buon lavoro perché adesso c'è da fare veramente tanto da parte della della società e anche il prossimo campionato magari ci risentiremo ci vedremo nelle prossime settimane così faremo un punto alla situazione grande piacere parlare veramente di calcio da uomo di campo e non solo un grande piacere per me vi ringrazio per per l'invito siete sempre molto molto piacevoli è bello passare del tempo che vuoi quindi grazie ancora grazie direttore generale quindi carl'alberto ludi del como calcio grazie e buona serata bene siamo arrivati al termine di questa puntata di ciclo come calcio domani è momento appunto giovedì di sporting club 20 e 30 21 e 30 con diversi campioni del bici volley e del volley che hanno disputato appunto pochi giorni fa la champions league league io saluto e ringrazio manuele focina in cabina di regia vi lascio con i gol e la musica dell'ultimo all'ultimo match di campionato della della ternana la prossima settimana ci sarà appunto l'inizio della supercoppa si sfideranno perugia e e como e poi nelle due settimane successive tra la volta della ternana contro appunto queste due squadre grazie che ci avete seguito da parte mia Gianluca Scalato è tutto ciao oggi l'ultima partita si comincia divertiamoci è iniziata ternana juve stabia ma falletti col destro a giro palla che si abbassa russo in calcio d'angolo la solita punizione del manco c'è dietro c'è marotta fantaci punta va sul mancino può calciare segnalo una zero errore grossolano della ternana sbaglia contec non può invece sbagliare tommaso fantaci parti pilo prende palla buca per conte che che vede la porta attacco di ritorno contatto e calcio di rigore la ternana può pareggiare cesar falletti intercetta russo e para si resta uno a zero per la juve stabia ha sbagliato cesar falletti bella palla aperta per celli esterno della rete dopo deviazione calcio d'angolo pesca ancora partipilo poi gli gira attorno partipilo lo ignora va al cross basso col destro con la punta su agger come all'andata pareggia la ternana con emanuele su agger qui sbaglia casa dei errore imperdonabile infatti orlandolo in fila segna il gol del 2 a 1 la juve stabia errore clamoroso di angelo casadei che regala il pallone a orlando contro due nasconde palla poi la crossa gran pallone di anthony partipilo e segna filip raicevic il gol del 2 a 2 importante per lui ma importantissimo per la ternana l'errore anche di russo e non perdona filip raicevic fa doppiette soprattutto 3 a 2 per la ternana punta da fermo poi pennella un gran pallone per cernigoi fallo il calcio di rigore fisica l'arbitro sinistro e casadei non ci arriva pareggia ancora la juve stabia 3 a 3 al libero liberati falletti controllo e destro palo pieno poi la conclusione al volo di rajcevic e palla larga attiene con qualità rizzo riesce a passare il cross è basso in mezzo e poi autogol clamoroso di salzano è finita a liberati l'ultima giornata di campionato la ternana la perde grazie